Giulia Terzi Il soggetto della foto è una giovane donna di nome Giulia Terzi, che tiene fra le mani alcune medaglie vinte alle Paralimpiadi, ritratta su una sedia a rotelle con uno sfondo scuro. Giulia è inquadrata dalla testa fino alla parte superiore delle gampe, da un punto di vista leggermente rialzato e diagonale, così che la si vede di tre quarti, a mostrarci prevalentemente la parte anteriore e sinistra. La sua figura occupa centralmente gran parte dell'inquadratura. Il corpo è seduto, tiene la testa leggermente piegata in basso e il busto appoggiato allo schienale della sedia. L'avambraccio sinistro le passa davanti al petto e sul palmo della mano, aperto verso l'alto, ci sono le medaglie vinte, i cui nastri sono sorretti dalla mano destra, tenuta all'altezza del capo. Le gambe, per la parte superiore visibile, sono accostate sulla sedia. Giulia ha il volto incorniciato da lunghi capelli castani lisci, che in parte le ricadono dietro le spalle e in parte sul lato destro del petto. Del viso vediamo il profilo sinistro e i suoi lineamenti regolari, una fronte ampia e libera dai capelli, sopracciglia sottili, occhi tenuti abbassati, naso dritto e labbra accostate nell'accenno di un sorriso. Giulia indossa un lungo vestito di colore fucsia senza maniche, con una scollatura a V e una morbida fusciacca in vita dello stesso colore. Le medaglie tenute in mano da Giulia sono cinque, d'oro, argento e bronzo. Ciascuna di esse è legata con un nastro rosso sul quale è visibile in bianco la scritta Tokyo 2020. La sedia a rotelle sulla quale è seduta Giulia si intravede appena, è di colore grigio scuro, simile a quello dello sfondo dell'immagine, anch'esso molto scuro. La luce, proveniente da una fonte non visibile, illumina frontalmente il soggetto. È tutto buio, nero. Questa è stata la mia immagine prima del terzo intervento alla colonna vertebrale, la stessa immagine che ho visto quando per la prima volta mi sono ritrovata seduta in carrozzina. Pian piano il nero si è trasformato in azzurro, colore dell'acqua. In piscina ho trovato la spinta che dal fondo mi avrebbe riportato a galla. Riscatto significa accettare la caduta, toccare il fondo e trovare qualcosa di bello in ogni passo verso la risalita. La risalita sarà un susseguirsi di emozioni e di esperienze, saranno incontri e affetti che porteranno a rivedere il sole. Solo così si accetterà che cadere è complicato, ma rialzarsi porta a galla il vero senso delle cose. È così che ci si riscatta dalle avversità, è così che ti riscatti con il sorriso. Giulia Terzi è nata a Melso il 14 agosto 1995. Entra in acqua per la prima volta a 5 mesi, ma a 5 anni scopre che la passione della sua vita è la ginnastica artistica, che frequenta fino a quando il suo stato di salute glielo permette. Soffre infatti di una rara forma di scoliosi congenita grave. Nel 2018, dopo essere rimasta in carrozzina, torna in piscina per cercare di realizzare il sogno di ogni atleta, le Paralimpiadi di Tokyo. Attualmente Giulia detiene un record paralimpico e 5 record europei. Ha vinto 5 medaglie a Tokyo 2020, 2 ori, 2 argenti e un bronzo. 7 medaglie agli europei di Funchal 2021, 6 ori e un bronzo. E 3 medaglie ai mondiali di Londra 2019, un argento e due bronzi. Il riscatto per Giulia è accettare la caduta, toccare il fondo e trovare qualcosa di bello in ogni passo verso la risalita.